Sette chilometri di percorso, due anni di lavori per 150 milioni di euro di investimento. Queste sono le dimensioni dei cantieri che da lunedì prossimo si apriranno ufficialmente e porteranno la TAV insieme agli inevitabili disagi in città. In realtà i cantieri sono aperti da oltre un anno ma da lunedì cominceranno le chiusure vere e proprie delle vie cittadine interessate al passaggio della linea ad alta velocità partendo da via Roncadelle nella periferia occidentale che resterà chiusa per 160 giorni ovvero fino al 28 ottobre del 2014. Quasi in contemporanea chiuderà anche via Colombai e mentre nella parallela via Violino attenderà la conclusione dei lavori nelle prime due vie per poi subire gli interventi necessari nel 2015 per altri sei mesi. Chiusure queste tutte concertate con il comune di Brescia. La prima indicazione che noi abbiamo dato è stata quella evidentemente di contenere al massimo i disagi facendo in modo che interventi che andassero a riguardare la medesima area fossero più possibili accorpati in modo tale da utilizzare il medesimo tempo per fare più cose. Inoltre la seconda indicazione che abbiamo dato è che le grandi chiusure stradali quindi quelle che verranno fatte su due arterie fondamentali per la verabilità cittadina come via Dalmazia prima e come via Corsica poi appunto non avvengano contestualmente ma avvengano separatamente in modo tale da non ingolfare e bloccare una zona della città. E proprio via Dalmazia che sarà chiuso interamente per 60 giorni in una sola carreggiata complessivamente di maniera alternata fra fine giugno e il 13 marzo del 2015 ma anche via Corsica per la quale è previsto un intero anno di chiusura tra il 2015 e il 2016 sono le vie che patiranno maggiori disagi. Gli unici stabili abbattuti sono quelli invece già evacuati nei giorni scorsi in via Toscana ma il comune ha cercato di imporre ad Italfair la controllata delle ferrovie dello Stato che sta realizzando l'opera soluzioni tecniche di un certo tipo. In particolare soluzioni progettuali che andassero a limitare i disagi come quella di adottare la campata unica anziché il pilastro centrale sui due nuovi sovrappassi ferroviari che verranno fatti sulla tangenziale ovest e su via Dalmazia. Questo ha consentito di ridurre veramente al minimo il periodo di chiusura completa dell'arteria di via Dalmazia e di annullare la possibilità che venisse chiusa anche tangenziale ovest quindi un lavoro molto certosino. In questi mesi continua comunque l'approfondimento per le soluzioni viabilistiche più di dettaglio anche per quanto riguarda il trasporto pubblico perché ci saranno evidentemente le deviazioni anche sulle linee bus sia urbane sia extraurbane. Altro capitolo di un certo rilievo raddoppio del ponte che scavalca la tangenziale ovest sulla quale transitano 50.000 mezzagiorno come sostiene chi dovrà poi realizzare il ponte. L'essenziale non mi preoccupa più che tanto perché la parte diciamo delle strutture in calcestruzzo di sostegno viene fatta tutto al di fuori della careggiata stradale quindi senza interferire con la viabilità tranne come ho detto nella conferenza per quei 4-5 giorni di parzializzazione della corsia di emergenza che ci serve per scaricare un po' di attrezzature di materiali. Il varo avviene in una notte quindi non dovrebbe arrecare problemi la data indicata a memoria il 15 di ottobre ma poi si vedrà in funzione del traffico vararlo qualche giorno prima che giorno dopo dipende anche dal traffico e dall'organizzazione del traffico.